wow 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 amici appassionati di gaming e di hearthstone ed eccoci qua con il mazzo celebrativo dei 20.000 iscritti all star stroll 2 per chi mi segue da molto tempo sapete che all star stroll è uno dei mazzi più laicati si dice licati insomma con più like sul canale più di mille incredibile e questa è una versione rivisitata e corretta è un po forse anche migliorata di quel mazzo ma prima di tutto ragazzi volevo dirvi che giovedì sera ci sarà uno streaming benefico sono stato infatti convocato dal capitano viking nella nazionale un'altra volta nella rappresentativa di hearthstone che giocherà overwatch contro alte community è un evento organizzato da chilled play si chiamerà clash of communities noi di hearthstone giocheremo appunto overwatch contro quelli di dota 2 sempre a overwatch e giocheremo anche contro quelli di rosor the storm saremo io viking bertels blore wallcat e double david e ti in castigo quindi ragazzi tante tante roba è parte me e quindi vi aspetto sul canale di viking molto probabilmente ci saranno questo stream se donerete ragazzi magari donate qualche euro per una buona causa sarà per un ente benefico che appunto riguarda i bambini magari che sono in difficoltà per quanto riguarda invece il contest dei 20 mili iscritti ho scelto le domande devo avere solo il tempo di fare il video penso che uscirà nel fine settimana perché sono un po pieno di impegni in quanto oggi lunedì devo fare questo mazzo martedì allenamento con i miei compagni appunto di rappresentativa overwatch mercoledì streaming su twitch dalle 22 30 22 22 30 giovedì c'è questo evento venerdì streaming sabato streaming dalle 22 30 quindi sono pieno come un uovo e la spero di far uscire il video prima possibile vi ho detto veramente tutto ragazzi partiamo col gameplay di all star strolls rexar aiuto la ranocchia non ci interessa dardo non ci interessa questo non ci interessa io non dico che non ci tessano anche questo da mia oe e soprattutto e richiamo in cestrale non mi ha ridato sguardo lontano vediamo cosa gioca lui dai ha ranocchio niente mica beh mica male e anche trada non tradiamo noi posso far questo pazzo well richiamo incestrale possiamo farlo quasi quasi che ne dite subito mettilo in campo l'ognomo tui cazzo se dopo facciamo aoi chissà che cazzo succede se facciamo a tutti non vedo l'ora dammi dammi sai che non rimuove penso che non ce la faccia a meno che no non ha solo una bestia in campo non dovrebbe farci da rimuoverlo questo giro è per noi oro lo rimuove no non lo rimuove fa tre grazie vai grazie fantastico vai vai mi sento indisposto fantastico sei già in difficoltà amico crepiti io no questo possiamo usarlo sì direi di farlo sì il problema è se fa il seguici cazzo perché non ce li ha abbiamo bordo non ci credo dai the kuzman 4-5 va bene possiamo ranarlo quasi quasi questo è anche buono però qua no se lo raniamo non abbiamo più mana per fare altro oppure possiamo sparargli addosso con questo e sperare e quindi poi possiamo fare questo allora facciamolo così sguardo lontanamente prendiamo qualcosa di forte i shari mi sembra discretamente forte spararmi l'addosso grande gioia bravi un grande abbraccio figata prossimo turno cosa possiamo fare possiamo ranare se arriva il leone o qualcosa del genere possiamo bloccarlo questo direi di no perché poi abbiamo questo da giocare turno dopo vediamo cosa arriva questo è buono mi dispiace è una paludosa uh furia del vento non vedo l'ora il canno see the hour cosa voglio fare qua ragazzi non voglio perdere tanta board però un po' sì si può perdere un po' di board si direi di sì non tutta però possiamo bloccare uno si può fare così possiamo fare così 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 il prossimo turno però è vero abbiamo un mano bloccato no il prossimo turno è sbloccato giustamente sì eh io starei così e poi andrei subito di lui potremmo anche trattarlo e poi lasciarlo sotto schiaffo di questo sì dam ancora danni incalcolabili vediamo chi arriva dottor boom no dottor boom non batte raga ragazzi il zaffilo mi piace discretamente così questo è sentato al perfetto dai vai vai che c'è i shari andata di cura mi piace i shari non è quotato qua ragazzi butta sulla gente forte ragazzo appero 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 no fammi giocare con Mcgner pensaci tu che non si dea war oh sexy is so so sexy sta giocata what up what up madonna che figata è sto gioco come si chiama la combo incredibile mettine un altro ragazzi non ci credo che ho fatto sta board fantastico ciao cranky cosa c'è al zap questo è un problema vai 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 se il gioco è piratazza mi devo tenerlo quello lo richiamo in cestale c'è soggot c'è e non può essere targettato ed è opiopi sta cosa vai 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 l'armata nascosta si raduna si raduna si raduna questo è un turno soggot gg dai soggo gg magari arriva i shari magari però meglio soggot perché non ce lo sa molto bella come giocata mi è piaciuta i shari va dentro i due allora pastiglietta chi arriva la tua rabbia chi arriva ti uscreta come mano eh vai giacca facci sognare se non c'è sap siamo messi bene raga non c'è sap almeno potrebbe avere c'è ancora due di mana non c'è avere sap sventramento perfetto danni incalcolabili in arrivo non sei divertente ma vini face mi piace questa tua teoria del mio face mi piace assai erano occhio ma dire abbiamo nove possiamo fare sta roba qua che non è malaccio che male che male poter erogio ci sta aspettiamo a far danni incalcolabili turno dopo vediamo se c'è qualcosa per rimuoverci lui se no quali segreti sveleremo ma dov'è che ne importa sta cosa si si prendi le carte prendi le carte dai che tocca a me dai che tocca a me siamo l'ital siamo l'ital raga ditemi siamo l'ital dolore direi molto dolore possiamo fare tre devo già sparargli un po' in testa si illude di vincere questa partita perché dopo l'ital vediamo se c'è rimuovermelo cerca il signor gesù cristo e non lo trova ed è GG contro jacka reptile quella dai jacka droppa dai droppa che data ci hai creduto fino alla fine una viaggia sotterranea ok però ci crede ancora jacka lo illudo prima jacka lo voglio illudere figlio mio stai per morire siamo uno off spariamo qua dai pensavo che ero già l'ital raga non avevo in mano l'ital comunque perché mi mancava sempre un danno vai vai jacka wow richiamo ancestrale never richiamo ancestrale mica c'è anche i shari dammi richiamo ancestrale vai 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 never richiamo ancestrale questo è dorato anche raga è una roba professionale questo ci apre il cuore con i draghi come al solito non giocare una buona eh bravo oh minchia madonna mia dammi richiamo ancestrale che è GG bisogno mentale figa questa è pericolosa potrebbe essere no io vapesco allora richiamo arrivato non possiamo giocarlo torno dopo però non possiamo giocarlo raga torno dopo furto del pensiero mazzo questo finisce malissimo sta partita qua raga mi sta rubando di tutto e di più prossimo turno possiamo giocare con ancestrale eccolo it's time it's time it's time vediamo che scende lui o lui se sei solo attaglia perché toccate così ma a me non mi piace sta cosa discretamente ho p sta cosa vai tocca me figa ci siamo incappettati qua però ci siamo incappettati la cabala si incazza beh qua posso pulire tranquillo beh due volte però gli ho fa fare male 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 raga dobbiamo riuscire a vincere lo stesso però nonostante tutto nonostante queste brutte cose che sta succedendo qua pulisco proprio appissimo però pulisco appissimo ma siamo sotto schiaffo poi eh eh la cabala si incazza doppia proprio quello doveva droppare vini face dammi qualcosa da giocare forte no non l'ha data facciamo sguardo lontano chiaramente potenziamento energetico attivate ok ok ci sono un taurissam per scalare un po' di roba qua vediamo se la cabala si incazza davvero silenzio vabbè puoi silenziali che cazzo vuoi sbattuatamente dammi altra roba forte voglio altra roba forte qui c'avrà anche Reno Gesù Cristo Giuseppe vediamo ancora uh opiata richiamo ancestrale e facciamolo allora raga potenziamento energetico attivato notetti di odio sfoggo la mia rabbia mi piace potenziamento energetico potenziamento energetico attivato attivato possiamo le valgine anche quello là a questo punto never lucky che arriva yogi peccato va bene va bene 6 plus 7,5 ci sta vai dimmi tutto la cabala si incazza risoluzione 0,5 possiamo ranare va bene perché one shottiamo dammi qualcuno che one shottiamo quanti danni abbiamo quanti danni abbiamo raga continuiamo i danni non so contarli non so contarli danni che senteva mali che la serpita era finita contiamo i danni raga allora siamo non ce la faremo mai non ce la faremo mai raga siamo 17 17 23 23 23 26 merda possiamo far così dai così puliamo un po' di roba questo quello lo vorrei tenere lo leviamo o lo teniamo? dopo poi siamo lì vai vai oh no fai in fretta amico gioca subito reno reno instant vai di reno vraclev fai in fretta vraclev ma qua non si scherza un cazzo sto livello qua qua siamo a livelli di dominio assoluto vai di reno vai di reno che ti ammazzo malissimo dopo WENDO andiamo a vedere allora la lista di All Star Trolls 2 riviste corretta prima di andare a vedere la lista ragazzi vi dico che purtroppo il la partita contro il paladino quella che ho convocato sul campo sei gnomi contaminati non ho potuto portarvela perché la cam talmente ero agitato che ha messo fuori fuoco completamente la mia faccia e non si capiva assolutamente una ben amata fava vi dico solo che alla fine ho perso grazie agli occhi lo ringrazio lo ringrazio comunque questa partita veramente fantastica ne sono successe tante però purtroppo ragazzi non ho potuto portare perché veramente era impresentabile ma andiamo a vederla allora ragazzi abbiamo un po' di rimozioni abbiamo anche una furia del vento che non abbiamo potuto usare però se rimane in campo uno dei nostri pezzi grossi può essere fondamentale un'involuzione portale sapere gestare per pescare tante magie tutti servitori grossi c'è anche sguardo lontano per scontare le magie abbiamo taurissan niti nemici chiaramente richiamo in gestare fondamentale per mettere in campo subito qualcosa di veramente OP OP maligos mech geniere termospin una delle mie carte preferite non giocate su arston ecco nosdormu soggot e yogsaron che l'ho voluto mettere perché yogsaron se no non ci sta assolutamente in questo contesto in quanto chiaramente perde il grido di battaglia giocandolo con richiamo ancestrale spero vi siete divertiti ragazzi ci vediamo presto allora in streaming 22.30 cerchiamo di arrivare agli 88 folli perché quelli che mi hanno subbato ormai sono definiti i folli siamo già mi sono sbagliato a 59.60 quindi non manca molto e ripeto ragazzi giovedì streaming su Overwatch io non streamerò sul mio canale osterò penso quello di Viking venite pure là e dimostrerò la mia skill assurda appunto su questo gioco un FPS che da molti mesi non giocavo ma che sto un attimino riprendendo per fare 4 partite per essere insomma presentabile perlomeno all'evento di giovedì sera dalle 8.30 dalle 20.30 vi ringrazio allora per i like i commenti le visualizzazioni un saluto dal Duca alla prossima ciao all'evento di giovedì ciao Ciao!